L'8 marzo a Catanzaro, gli uomini della CGL uniti contro la violenza sulle donne. Sì, finalmente vediamo un bel movimento che tocca tutti, dalle donne agli uomini. È un'iniziativa che vuole semplicemente dare una testimonianza, una manifestazione della CGL che si oppone a questa crescente crisi sulla violenza sulle donne. È un aumento, i dati ci hanno dato purtroppo riscontro in quest'ultimo anno, in particolare in quest'ultimo periodo e ovviamente dobbiamo ricominciare da un dialogo e soprattutto dal rifiuto della violenza e dell'aggressione nei confronti delle donne. L'8 marzo in piazza della prefettura a Catanzaro cosa succederà? Ci sarà un piccolo incontro ovviamente tenendo conto del rispetto delle norme anti-covid però saranno presenti tutti gli uomini della CGL sfilando con mascherine, felpe, magari anche scarpe rosse per lasciare una traccia in un territorio che non è esente da questo fenomeno in crescita. Questa iniziativa riprende le orme di quella che è stata anche a Milano? Sì, esattamente. Su questo bello stimolo anche noi ci facciamo sentire e diamo un segnale di apertura, di dialogo perché i fattori sono culturali fondamentalmente, quindi vanno scardinati un po' alla volta dal basso con il confronto ma soprattutto con la testimonianza viva delle persone che nel loro vivere quotidiano allontanano questi principi. Oggi dobbiamo ricominciare dagli uomini perché è una cosa che si ripercuote sulle donne ma perpetrata dagli uomini, per cui è dalla consapevolezza che è un argomento che tocca tutti e quindi tutti ci dobbiamo sentire responsabili di rifiutarci rispetto a questa situazione. Grazie.